eccoci qua eccoci qua allora buon sabato a tutti buon weekend a tutti tra l'altro oggi a Firenze e spero in tutta Italia clima perfetto splende il sole più o meno però si sta da Dio quindi auguro appena tutto un serenissimo weekend a tutti forse il fatto che con giocare la Fiorentina lo rende ancora più sereno può essere ogni tanto ci vuole staccare e detto questo buon weekend a tutti buon relax a tutti di cosa parliamo parliamo di Maximo Lopez perché aspetta prima di parlare di mi viene da ridere mi viene da ridere ora poi vi spiegherò il motivo come al solito vi dico sempre iscrivetevi al canale abbonatevi che adesso ci sono gli abbonamenti se avete l'iPhone questo l'ho scoperto qualche giorno fa se avete l'iPhone e volete abbonarvi dovete abbonarvi da pc perché da cellulare il tasto abbonati clamoroso ma vero non non si vede se avete l'iPhone quindi potete abbonare solo da pc quindi abbonatevi al canale sostenete il canale live lunedì martedì giovedì sera e venerdì pomeriggio oltre che nel weekend quando gioca la Fiorentina o in campionato oppure il giovedì in campionato detto questo detto questo se vi abbonate naturalmente accesso al gruppo telegram potete vincere la maglia originale della Fiorentina tutti i mesi maglia firmata del vostro giocatore preferito noi la maglia la compriamo proprio la compriamo veniamo del decalciatore la facciamo firmare con dedica e se siete fuori Firenze ve la mandiamo se siete di Firenze ci incontriamo ci incontriamo vengo io e ve la porto detto questo tornando a noi Maxim Lopez il buon caro Maxim Lopez allora partiamo per chi non lo sapesse ieri Maxim Lopez parla in un'intervista e dice questo attacca Arthur in realtà attacca Arthur e anche italiano e dice italiano è bravo ma faceva giocare chi si allenava poco perché veniva da grandi club lui dice sostanzialmente italiano non faceva giocare chi meritava naturalmente io che so a chi si riferisce Maxim Lopez mi sono permesso la licenza poetica di mettere all'interno del post il riferimento di Maxim Lopez ma Maxim Lopez Maxime Lopez ce l'ha con Arthur e anche un po' con Jack Bonaventura perché tutto questo è questo e questo questa dichiarazione seppur ho letto un po' i commenti su su Instagram anche su Facebook di Passione Fiorentina trovate l'articolo sulla baro viola il 90% dice Maximo Lopez Maximo Maximo Lopez ma di cosa ti lamenti detto questo e questo sfogo lo ritengo interessante perché lo ritengo interessante perché mi dà l'assist per raccontare qualcosa che lo scorso anno purtroppo capitemi non potevo raccontare quest'anno si può raccontare c'è una piccola verità nelle parole di Maximo Lopez e questa piccola verità ci serve per capire alcune dinamiche dello scorso anno che dinamiche lui si riferisce ad Arthur anche perché non è che si può riferire a Paro Martinez quarta dato che lui è un centrocambista centrale e il posto se lo giocava con con Arthur sostanzialmente perché si riferisce ad Arthur e qui c'è la base di verità in queste parole di Maximo Lopez Arthur molto spesso lo scorso anno non si non perché non voleva allenarsi o perché aveva da fare o perché ma Arthur lo scorso anno soffriva per non aver problemi la dico così infiammazione alla zona del pube preciso perfetto questo si può se dici un altro termine la gente dice ti posso denunciare per violazione della privacy così preciso tanto quello che dovete capire l'avete capito molto spesso non si allenava Arthur sia al prima parte di stagione si è allenato di più secondo parte di stagione si allenava pochissimo idem molto spesso Buonaventura non per questo motivo naturalmente perché veniva gestito Buonaventura 36 anni la Ferentino scorso anno ha giocato quasi 60 partite capite bene che Arthur e Buonaventura non potevano allenarsi tutti i giorni e giocare tutte le partite quindi venivano gestiti Jack Buonaventura per un discorso di età quindi di forse forze forze fisiche da gestire Arthur per un discorso di così di di tenuta fisica e non sempre si allenava cosa dice Maximo Lopez che va nello specifico vi leggo le sue parole ha dato troppo spazio a giocatori che non se lo meritavano calciatori che avevano uno status solo perché avevano militato in club importanti ma nel quotidiano negli allenamenti non erano granché coinvolti questo sulle parole di Maximo Lopez naturalmente il riferimento ve l'ho detto e ad Arthur ma anche se non ve l'avessi detto io non è che era vicilissimo arrivarci sia per ruolo per concorrenza di Maximo Lopez sia perché l'identikit calza alla perfezione al di là delle parole di Maximo Lopez che è un suo sfogo ci sta è un ragazzo che si sfoga lo scorso anno magari si aspettava di giocare di più anche se poi andiamo a vedere le presenze di Arthur Arthur e andiamo a vedere le presenze di Maximo Lopez non si può nemmeno dire che Maximo Lopez lo scorso anno abbia giocato pochissimo perché italiano giocando ogni tre giorni la Fiorentina spesso lottava la formazione Maximo Lopez non è che giocava sempre o spesso però le sue occasioni per dimostrare le avute e italiano poi qualcuno li può imputare degli errori più errori meno errori come tutti gli allenatori però è uno che nei suoi tre anni ha veramente dato possibilità a tutti e il calcio è uno degli sport dove io posso essere raccomandato quanto vuoi ma se io gioco faccio la differenza e poi si fa fatica a toglierti quindi a Maximo Lopez io mi viene da dire caro Maximo le occasioni ne hai avute perché le partite ne hai giocate tanto poco dall'inizio le hai giocate e in queste partite in cui tu hai giocato tu non hai mai rubato l'occhio non ti sei mai guadagnato davvero il posto quindi caro Maximo ti si vuol bene ci mancherebbe altro ti auguriamo dieci anni di carriera ad altissimo livello però io da esterno noi da esterni noi da tifosi della Fiorentina piuttosto che da detti a lavori diciamo caro Maximo ma tu lo scorso anno quando hai giocato hai dimostrato di valere il posto al titolare punto interrogativo che Arthur è meglio di te caro Maximo questo sappiamo tutti anche perché Arthur lo scorso anno è vero che fisicamente ha avuto un'ottima prima parte di stagione poi la seconda parte di stagione che allenava molto poco giocava a spizziche boh giocava una una sì una no una sì una no veniva gestito fisicamente è un po' crollato perché veniva da due anni di inattività dall'altro Arthur veniva da due anni di inattività scorso anno ha giocato praticamente tutta la stagione prima parte di stagione più completa come detto seconda parte di stagione più attraenante quest'anno Arthur è tornato a fare inattività voi pensate lo scorso anno chi era il faro della Fiorentina al centrocampo c'è uno che negli ultimi quattro anni togliendo l'anno la Fiorentina ha sempre non ha mai fatto questo mestiere quando andiamo a giudicare la Fiorentina dell'anno scorso degli altri anni io spero che quest'anno paladino faccia meglio perché la squadra è più forte perché paladino è bravo sono tutti i presupposti per far meglio voglio dire l'obbligo come hanno detto commisso e pradè la squadra è più forte bisogna far bene però squadra è meglio è assortità meglio ragioniamo anche su chi lo scorso anno aveva in mano il centro campo della Fiorentina gli ultimi tre anni di Arthur anzi gli ultimi quattro anni di Arthur l'anno la Fiorentina ha fatto il calciatore ora è tornato Arthur a non fare il calciatore fa il turista sereno penso si si vada a allenare credo di sì obbligato è fuori rosa fuori dal gruppo si gode Torino si gode i 5 milioni netti a stagione che prende beato lui ci viene da dire beato te beato te a Maxime Lopez diciamo Maxime tra te Arthur e come mangiare stare a guardare poi che bisogno c'era di fare queste dichiarazioni ricordiamo a tutti magari qualcuno sta roba gli sfugge dove gioca oggi Maxime Lopez Maxime Lopez oggi gioca nella serie B francese e se non fosse andato a giocare nella serie B francese avrebbe giocato nella serie B italiana nel Sassuolo ora io voglio bene a Maxime Lopez all'altro ammetto chiedo scusa io quando fu preso Maxime Lopez ero contento perché a me Maxime Lopez piaceva però poi c'è il campo sono le opinioni poi c'è il campo e il campo è stato quello che è stato quindi io faccio fatica a commentare queste parole non mi va nemmeno di dire che Maxime Lopez è un giocatore da da serie B però ad oggi io fossi Maxime Lopez mi sarei fatto un esame di coscienza perché lui arriva a Firenze l'ultimo giorno di mercato a un milione scaricato da tutti non lo voleva nessuno il Sassuolo aveva scaricato perché il Sassuolo aveva scaricato perché a livello comportamentale vi do questo retroscena che era reso protagonista di alcuni atteggiamenti non perfetti che per esempio a Dionisi non piacciono molto e lo mise in lista trasferimenti l'ultimo giorno di mercato non aveva preso nessuno la Fiorentina va dato a Marabatta al Manchester chi c'è prendiamo Maxime Lopez non ci fu nemmeno programmazione e l'acquisto Maxime Lopez ma questo poi è un altro discorso quindi ringrazio Maxime Lopez perché grazie a lui è stato anche una buona scusa per dirvi questo retroscena su Artu lo scorso anno però tra lui e Artu lo scorso anno non c'è stato paragone anche quando Artu non era al cento per cento che giocava ha giocato meglio di Maxime Lopez e quando Maxime Lopez ha giocato ha fatto male poi la mia filosofia di vita che nasce dalla frase ora qualcuno sarà sorridendo però per farvi capire il concetto dalla frase di Martin Luther King non 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 pensare a quello dovrebbe essere così non pensare a quello che il paese può fare per te pensa con ciò che tu vuoi fare per il paese ecco non pensare a quello che gli altri caro Maxime Lopez potevano fare per te lo scorso anno quindi in questo caso italiano nel darti più spazio ma chiediti tu cosa hai dato alla Fiorentina cosa non hai dato alla Fiorentina quando ti è stata data la possibilità di farlo poi io fossi in te una dichiarazione contro Artu o contro italiano non l'avrei fatta anche perché quest'anno non stai brillando in nessun top club né di seriano della francia ma giochi nella serie b francese grazie Maxime perché insomma grazie a te questo retroscena su Artu l'abbiamo raccontato e magari nel corso della stagione tanti piccoli retroscene aneddoti sulla scorsa stagione che non sono stati dati adesso si possono dare vi saluto se non faccio video prima possibile vediamo ci vediamo lunedì sera alle 21 in live su twitch e qui su youtube abbonatevi al canale come avete visto stiamo mettendo sempre più quasi tutti i giorni cioè quando li mettiamo su instagram su facebook anche qui su youtube dei reel perché è importante che l'attività di passione fiorentina sia anche bella completa su youtube con i reel molto spesso li mettiamo divisi perché il massimo di reel che si possono mettere su youtube è un minuto mentre su instagram si può fare tre minuti su tiktok non c'è non c'è limite quindi quando possiamo stiamo cercando di arricchire sempre di più proprio il canale di passione fiorentina su youtube uno perché ci crediamo ci puntiamo e poi work in progress già vi avviso adesso vi lancio questa roba questo piccolo sassolino nelle storie ho avvisato stamattina stiamo lavorando ad un podcast al podcast sono ad un podcast al podcast di passione fiorentina e sarà il podcast che poi verranno caricate le live qui su non le live il podcast la registrazione verrà caricata qui su youtube è un progetto poi ve ne parlerò per bene se c'è la modo e tempo a cui tengo tantissimo penso che abbia un grandissimo potenziale e poi scenderete in campo anche tutti voi con dei consigli con degli spunti ci mancherebbe altro però ecco stiamo lavorando anche per per questo nuovo bel progetto che poi ripeto le registrazioni verranno caricate qui su youtube e su spotify un bacio un abbraccio buon weekend a tutti naturalmente e sempre forza fiorentina ragazzi grazie a tutti grazie a tutti